Buonasera a tutti, benvenuti a Mupin Talk. Questa sera affronteremo la storia di un fenomeno che ha cambiato il mondo. Vedremo come Internet, lo strumento che tutti noi usiamo ogni giorno, parte da molto lontano. Lo vedremo assieme a due ospiti. Il primo ospite è Fulvio Ieva, utilizzatore e frequentatore di BBS fin dagli anni Ottanta e sviluppatore ad Commodore dell'epoca. Ciao Fulvio. Elia Bellussi, storico dell'informatica e in questa sede in particolare della storia di Internet e fondatore del Museo Piemonteggio dell'informatica. Dicevamo che la storia parte da lontano. Dovete sapere che nel ormai lontano 1968 il professor Doug Engelbart presentò in quella che a posteriore è stata rinominata con ironia la madre di tutte le demo, una serie di tecnologie che per l'epoca erano rivoluzionari, addirittura fantascientifiche. In effetti sarebbero diventate di uso comune solo anni dopo, cose che oggi diamo per scontato. In questa specifica dimostrazione mostrò il mouse, l'interfaccia utente a finestre, la prima videoscrittura e anche il primo esempio di videoconferenza con cuffie, microfono e telecamera, come quella che stiamo facendo noi stasera. La dimostrazione fu fatta utilizzando un computer innovativo, un SDS 940, uno dei primi computer in timesharing, cioè in grado di eseguire contemporaneamente più programmi. Questo stesso computer fu poi donato all'Università di Berkeley, dove fu utilizzato da un gruppo di appassionati, tra le altre cose, per creare un sistema di bacheca elettronica. Un sistema che avrebbe simulato l'uso di una vera bacheca come quelle che si trovavano in molti luoghi pubblici, un posto dove appendere annunci, foglietti. Questa bacheca elettronica si chiamava Community Memory. Aveva un terminale inizialmente dislocato presso una biblioteca e offriva agli utenti la possibilità di creare contenuti e di commentare e rispondere ai contenuti creati dagli altri. Nel giro di breve tempo raggiunge una certa base di utenza e spontaneamente si creano gruppi di utenti dedicati al collezionismo di oggetti particolari, a creare gruppi di utenti che condividono l'automobile per fare certi viaggi oppure per condividere consigli sui ristoranti preferiti. Un po' come facciamo noi oggi comunemente con tutti i nostri strumenti tecnologici. Questa è comunemente considerata la prima bacheca elettronica, BBS, Ballet In World System. Da lì in avanti c'è stata una evoluzione tecnologica che ha portato le BBS a diventare un fenomeno relativamente diffuso, sempre per una nicchia di appassionati e questi stessi appassionati sono stati poi i primi fruitori di internet così come la conosciamo oggi. Fatta questa brevissima introduzione, innanzitutto facciamoci chiarire più nel dettaglio cos'erano le BBS e come venivano fruite all'epoca. Fulvio, tu da utente e da frequentatore di BBS, come descrivi quell'esperienza in quei tempi? Allora, in quei tempi in Italia era in 1986, 85-86, la prima volta che mi avvicinavo al mondo del computer, allora avevo un Commodore 64 e mi ero autocostruito un piccolo modem, perché i modem costavano carissimi, erano apparecchiature professionali, quindi me l'ero costruito e lo utilizzavo a tratto da questo fenomeno delle BBS. Come avevo conosciuto questo fenomeno? Ma innanzitutto torniamo indietro di due o tre anni, nel 1983, quando al cinema è stato proiettato il film War Games, che era un classico che ha avuto un successone tremendo, in cui c'era un ragazzino che si collegava con un computer della difesa americana e combinava una serie di danni e una serie di avventure e poi tutto si risolveva con un buon esito. Comunque, ero già appassionato di computer, non mi potevo certo permettere nessun computer, me lo sono potuto permettere dopo due anni. L'idea di potermi collegare a un'altra macchina e interagire anche a distanza era per me una cosa affascinante e le BBS ti davano questa possibilità. Non ti collegavi con il Pentagono, non hackeravi nessun sistema militare, però era un principio, cominciavi a vedere qualcosa che in Italia in quel periodo pochissimi vedevano, se non con quelli delle università o persone che lavoravano a stretto contatto con aziende informatiche americane. Cosa... BBS qui in Italia c'erano le più famose, erano organizzate da persone che non avevano scopo di lucro, avevano messo su un ambiente, un server che tramite terminale ti faceva vedere una schermata in codice ASCII in cui tu potevi scegliere delle voci, potevi interagire con gli utenti, potevi scaricare dei piccoli giochi, potevi mettere degli annunci perché c'era una bacchetta per gli annunci, generalmente era materiale elettronico o informatico. Quello che si faceva all'epoca era l'antesignano di quello che sarebbe stato internet al giorno d'oggi, in scala molto minore e con i limiti di quella che era all'epoca. Non dimenticarci che ci collegavamo via telefono, ogni telefonata costava cara perché se la BBS era della sua stessa città pagavi uno scatto ogni 5 minuti, se invece telefonavi interurbana poteva diventare anche più cara, arrivavi a pagare anche parecchi soldi per l'epoca, poi ero un ragazzino, non lavoravo, quindi si cercava in tutti i modi di fare collegamenti brevi, anche perché la velocità era sui 300 BOD, quindi 300 bit al secondo, quello che ci poteva permettere l'epoca. Mi dicono che era anche molto costoso connettersi alle BBS all'epoca, ma tecnicamente mi hai parlato di BOD che era un'unità di misura della velocità della connessione, si faceva esattamente una telefonata. Sì, tu collegavi il tuo modem in parallelo al telefono, digitavi il numero di telefono, potevi fare o dal telefono oppure per i modem più avanzati facevano direttamente loro il numero, dopodiché ci si collegava e si udiva il classico fischio che poi siamo abituati a sentire di quando ci si collegava alla BBS che è una metà tra un suono di un fax e un rumore abbastanza fastidioso, comunque per l'epoca era un suono bellissimo e dopo un po' riuscivi anche a capire quando ti collegavi, quando era il momento in cui ti collegavi. Le BBS erano gratuite, quello che costava come ho detto era la telefonata, non è come il periodo dell'epoca, ogni telefonata costava in media 50 lire al minuto per quanto riguarda. E se tu telefonavi fuori città, con il prefisso che non era quello della tua città, pagavi gli scatti avvenivano molto più veloci, non avvenivano scatto al minuto, ma avvenivano scatto ogni 10 secondi, 2-3 secondi, dipende. E quindi immagina quanto poteva costare una connessione. La velocità era 300 bode, 300 bit al secondo e tu immagina per riempire una pagina di 25 caratteri per 24 righe quanto ci andava solo per riempire una pagina. Quindi era molto lento, era più che altro quando ti collegavi per 10-15 minuti, avevi speso le tue 500-700 lire, erano soldi per un ragazzino dell'epoca. Conveniva essere sintetici effettivamente. Da questi strumenti di nicchia poi si è passati in un giro di un tempo relativamente breve a internet. Una cosa che noi oggi diamo per scontato, io a casa mia ho l'utenza del gas, l'utenza dell'energia elettrica e l'utenza di internet. Internet è un servizio che noi tutti abbiamo oggi. Ma qual è, ed è una domanda che giro Elia, qual è la vera origine di internet? Perché noi avevamo quindi questi computer a cui si telefonava, oggi abbiamo dei computer che sono costantemente tutti connessi. Come sei arrivati ad internet, Elia? Beh, già tu hai accennato un po' alla storia di internet della fine degli anni 60. Diciamo che quasi 60 anni fa, per la precisione, dal 1961, grazie a Leonard Kleinrock dell'MIT, che pubblicò il primo studio sulla teoria del packet switching o come mutazione di pacchetto, si diede il via alla tecnologia necessaria per comunicare tra sistemi diversi. Questa teoria è la base del trasporto dei dati nelle telecomunicazioni e da quella data si è proseguito senza sosta da un lato con le università americane che avevano bisogno di condividere documentazione per le ricerche che stavano facendo. Dall'altra c'era un consolidamento di queste realtà e il governo degli Stati Uniti fu lungimirante nel valutare positivamente questa realtà. Contate che si era anche in piena guerra fredda e il governo degli Stati Uniti vide in ciò qualcosa di utile per evitare disservizi nelle telecomunicazioni, qualora ci potesse essere un bombardamento atomico. Sicuramente questo ha influito moltissimo nello sviluppo, ma tutto nacque dalle università. La cosa più importante era l'università, la possibilità di condividere documentazione e ricerca in modo da poter essere più produttivi, in quel senso. Comunque da qui si sviluppò ARPRED, che è la proteggiatrice di internet per come la conosciamo oggi, e poi si è arrivati alla internet che abbiamo, che usiamo, che stiamo usando anche adesso. Ecco. Giro a Fulvio i complimenti del pubblico per essersi costruito un modem che hanno commentato. Sì, ero un appassionato di elettronica e dato che costava troppo acquistare un modem ho fatto un progetto con un integrato che c'era all'epoca, quindi ho costruito il modem e l'ha pubblicato anche una rivista italiana, Elettronica 2000, l'ha pubblicato a settembre dell'87. C'è l'articolo con come costruirsi il modem per Commodore 64. Invece, un dettaglio tecnico, mi dicono che i board sono equivalenti ai bit al secondo fino a 9600 e poi con una diversa forma d'onda dovrebbe cambiare, però non ne siamo sicuri in questo momento. Sì, no, ti sto dicendo, ho detto lo standard dell'epoca perché 9600 era un sogno, un sogno poter fare 9600. C'erano dei modem che andavano a 2.400 ma costavano veramente una milionata di lire. Fulio, queste BBS, questi diversi computer a cui si telefonava, erano quindi delle isole chiuse? Io mi collegavo con una specifica BBS e rimanevo chiuso in questo piccolo mondo oppure c'era un qualche tipo di federazione, di interoperabilità? No, no, non erano chiuse assolutamente. C'era una serie di modo per cui dialogavano fra di loro. C'erano le, come si chiama, delle reti, la più conosciuta era Fidonet che permetteva di collegarsi e di tramite un indirizzo diviso in nodi comunicare e inviare delle specie di mail, dei messaggi a tutti quelli che facevano parte della rete Fidonet. Quindi se la BBS aderiva a Fidonet condivideva i suoi nodi e praticamente creava una rete che veniva replicata ed era possibile inviare messaggi in tutte le parti del mondo. Teniamo presente che Fidonet è nata in America e si è sviluppata facilmente anche qua in Italia. Quindi c'erano tante BBS che erano collegate a Fidonet con cui tu potevi scrivere delle mail a persone che erano in America collegate a delle altre BBS. Era un principio come quello che è lo standard attuale TCPIP però era basato su altri principi. C'erano i nodi, adesso è troppo complesso da descrivere, comunque c'erano degli indirizzi numerici con cui tu potevi scrivere a delle altre persone. Tu avevi il tuo indirizzo che era un indirizzo numerico e lo pubblicavi e potevi scambiare messaggi. Quindi c'era l'email già allora, non era proprio email, comunque era l'equivalente. Non si potevano mandare allegati, potevi solo scrivere testo. Se volevi mandare immagini potevi fare con la SkiArt, simulare delle immagini creandole con i caratteri semigrafici della tastiera. Questo sistema per condividere messaggi da una bacheca all'altra mi fa pensare al meccanismo dei newsgroup che è arrivato fino ad oggi ed è un po' passato di moda. Elia, i newsgroup hanno, cosa sono esattamente per il pubblico più giovane che forse non li ha mai nemmeno conosciuti anche se esistono ancora in una piccola piccola nicchia? I newsgroup hanno dei legami perché assomigliano molto a ciò che ha descritto Fulvio. Ad essere precisi non hanno legami, nel senso che si basavano su un'altra tecnologia, un'altro protocollo e comunque concettualmente possono essere considerati simili. Sono stati un mezzo di comunicazione molto comune, in particolare dalla fine degli anni 90 fino al primo decennio degli anni 2000, nonostante fossero stati introdotti già negli anni 80. Il concetto è sempre quello di condivisione dei messaggi, in questo caso qui di post, articoli, afferenti ad una specifica categoria gerarchica. Facciamo un esempio. Mettiamo che io sia un appassionato di cartoni animati e sia un utente italiano. Beh, ovvero, lo sono. Però vabbè. Bene, io troverei sicuramente il mio newsgroup preferito, ad esempio potrebbe essere IT Arti Cartoni, che tra l'altro è ancora attivo a quanto mi risulta. E come potete immaginare dal nome, IT sta per Italia, Arti sta per le varie arti che possono esserci, quindi pittura, musica e così via, e cartoni perché si occupava di cartoni, quindi un'antipologia di arte. in questo genere di newsgroup, la gente si trovava per dialogare, un po' come per le BBS, diciamo, e immagino anche che molti di coloro che ci stanno ascoltando adesso abbiano avuto il piacere di utilizzare, di postare, di scrivere messaggi su IT Compra e retrocomputing, in cui appunto si parla di retrocomputing ed in cui sono sicuro molti di noi hanno iniziato i loro primi passi sul tema e hanno iniziato a conoscersi. posso fare una citazione personale, io stesso sul newsgroup IT Compra e retrocomputing ho conosciuto per la prima volta altri appassionati di computer d'epoca, quindi ho iniziato un percorso personale che mi ha portato stasera ad essere qui a parlare con voi. Quindi i newsgroup hanno anche un... ai newsgroup siamo molto affezionati anche per questo motivo, anche se oggi non sono più molto usati. Invece facciamo un passo indietro, torniamo a parlare della scena underground, delle BBS, del film Wargame. Nel film Wargame si vede questo protagonista che fa dei trucchi per poter telefonare gratis. Queste attività di sabotaggio delle linee telefoniche, di furto delle telefonate, erano qualcosa di veramente diffuso, era qualcosa che si faceva o sono più invenzioni cinematografiche? Fulvio, tu hai mai telefonato Scrocco? Penso che sia andato in prescrizione il reato, sì. Sono passati 30 anni, sì, ho telefonato Scrocco. No, in Italia era molto meno diffusa perché noi avevamo una rete impulsi. Funzionava bene con la rete Atoni in America, dove è nato questo fenomeno, per cui diciamo che abbiamo la persona, l'emergente, l'hacker principale che ha lanciato questa moda, John Thomas Draper, che era un ingegnere americano che praticamente nel 1964 ha scoperto che poteva hackerare i sistemi della rete telefonica americana. Poi quando c'è stato lo sviluppo delle BBS, perché finché erano solo telefonate, lui lo utilizzava proprio per non pagare questi collegamenti. Cosa aveva? Aveva sviluppato, essendo un ingegnere elettronico, aveva sviluppato un semplice circuito che imitava le frequenze con cui si autenticava l'inserimento delle monete all'interno della rete telefonica. Quindi poteva far credere all'operatore che lui avesse messo la moneta e quindi la telefonata continuava ed era abilitata. Dopo ha sviluppato ancora questa sua tecnica, è arrivato anche avendo questi mezzi, a poter scansionare tutti i numeri di telefono, riuscendo ad avere anche il numero del Pentagono. Ci sono varie storielle per cui lui è riuscito una volta addirittura a parlare con Nixon, in cui narra la leggenda che lui ha detto, signor Presidente, è in atto una crisi facendosi passare per un personaggio della CIA e il Presidente ha detto, che tipo di crisi? Abbiamo finito la carta igienica. E da lì questo l'ha fatto diventare di lui una leggenda vivente e soprattutto l'ha fatto entrare sott'occhio dell'FBI per cui non ha più potuto fare niente se non avere la nomina di Capitan Crunch. Era soprannominato Capitan Crunch, quella è un'altra storiella per cui Capitan Crunch era delle caramelle che vendevano in America, erano delle caramelle fischietto che tu potevi fischiare dentro e la leggenda diceva che Capitan Crunch e John Draper era in grado, fischiando dentro, di emulare il suono che permetteva di abilitare l'inserimento della moneta. Però lì è proprio leggenda, veramente, perché siamo proprio raccontando la storia immaginata di quell'epoca. Ma c'è stato qualche legame, se ricordo bene, tra Capitan Crunch e i fondatori di Apple? Elia, c'è qualche legame, si sono conosciuti o ricordo male? Tu Elia ne sei qualcosa? Non saprei esprimermi su questo perché non mi risulta, però magari Fulio non è stato di più di me su questo. Ma sei riuscito ad avere contatti con Nixon, penso che sei riuscito a telefonare a Nixon, il minimo è di aver telefonato a tutte le persone, come tutti quelli che acquistano un potere, poi si credono invincibili, poi facilmente cadono nelle trappole. Tra i commenti mi citano la NUA di Itapac che gli utenti cercavano sulle BBS FidoNet. Era un mito, la rete Itapac era una rete a pacchetto che permetteva di collegarsi senza scatto telefonico. Cioè tu ti collegavi in locale al tuo nodo Itapac e poi da lì potevi telefonare a qualunque numero del mondo e collegarti senza pagare le tariffe internazionali. Però le tariffe Itapac erano a pagamento ed erano solo esclusive dell'azienda. Quindi giravano un certo numero di password, non proprio un po' abusive, con cui tu ti collegavi a queste reti a pacchetto e potevi costruirle per chiamate a tuo interesse. Però anche lì io non ho mai avuto un numero Itapac, non sono mai riuscito. Era una leggenda che molti avevano questo nodo. Però o lo prendevi al lavoro e dovevi lavorare con aziende americane, oppure era molto difficile accedere a un servizio del genere. Wow, che storie che sembrano venire proprio da un'altra epoca. Eh, un'altra epoca. Sì, noi eravamo vivi in quell'epoca, eppure il mondo era completamente diverso. Cercare numeri di telefono per non pagare le telefonate, collegarsi con Nixon, sono tutte cose strane, molto strane a pensarci oggi. Oggi internet ha avuto un impatto sulla società umana che è forse unico nella storia dell'umanità. Elia, tu com'è la verità? Com'è sei in grado di contestualizzare? Che tipo di impatto ha avuto internet sulla nostra società dal tuo punto di vista? Beh, io partirei da un esempio molto semplice e immediato. Tutti quanti abbiamo un cellulare o un navigatore in auto, e con questo cellulare visualizziamo delle mappe, sappiamo dove dobbiamo andare, impostiamo gli orari e così via. Con l'aumento di internet, ma in verità con l'aumento di svariati apparati digitali, il valore delle competenze di molti gruppi specializzati è andato calando. E questo esempio qui del cellulare con le mappe è lampante. Un esempio in particolare è quello legato ai taxisti londinesi. I taxisti londinesi, per poter ottenere la licenza e il permesso di effettuare i propri servizi, devono dare un esame difficilissimo in cui diventa chiesto di memorizzare tutte le vie di Londra. Ma non solo, devono anche sapere in base agli orari quali sono le scorciatoie e quali sono le zone in cui c'è più traffico, quindi da evitare. Tutto quanto memorizzato nella prima mente. Invece adesso abbiamo i cellulari con GPS e la connessione internet che ci permettono di visualizzare le mappe, di avere sempre aggiornato anche i dati del traffico. Prima applicazione che si diede appunto spunto a questo è Waze, che poi è stata acquisita da Google, in cui gli utenti condividevano le proprie esperienze, dicevano guardate che c'è un autorelox qui, oppure c'è un blocco del traffico qua, c'è il semaforo rotto a questi incroci e così via. Quindi questo è stato un impatto davvero notevole, per cui spesso noi magari non ci rendiamo conto della nostra vita, della differenza che sta facendo, però ha cambiato radicalmente certe professioni o comunque ha cambiato anche certi modi di vivere nostri. Io mi ricordo che negli anni 80 avevamo tutti qui. Beh, molti avevano degli atlanti in macchina, delle mappe stradali per andare, che ne so, al mare o in montagna. Ecco, adesso non lo usiamo più, abbiamo il cellulare che connesso a internet ci permette di essere costantemente aggiornati e in tempo reale, ecco. Quindi direi che questo esempio qui può essere lampante del cambiamento che abbiamo avuto nel nostro modo di vivere. Molto interessante. Io ci vedo anche un'affinità con le origini. Hai parlato dei Waze dove gli utenti possono condividere lo stato del traffico. È un po' una nuova versione del contenuto generato dagli utenti che era la caratteristica fondante di Community Memory, la prima BBS di cui ho parlato qualche minuto fa. Sì, sì. Comunque si è diffuso il concetto di siamo produttori di contenuti e non solo fruitori. È la stessa idea che ha fatto un lungo giro ed è tornata. Molto interessante. Sì. Siamo sempre. Sì, le idee buone non finiscono mai. Fino agli anni 90 giravamo con l'Atlante del Touring in tre volumi. Io avevo solo il Nord Italia perché viaggiavo poco e le cartine cittadine pagine gialle rubate ai clienti. Beh, anche lì fino a qualche anno fa tutti quanti andavamo in agenzia di viaggi per prenotare i nostri viaggi turistici, no? Adesso invece usiamo Booking.com, Expedia, qualsiasi servizio online o anche sul cellulare per prenotare il proprio volo o per prenotare l'albergo, per pianificare il proprio viaggio, no? Anche per le recensioni stesse. Non ci affidiamo più a qualche persona specializzata ma ci arrangiamo andando a leggere le guide. Guide che tra l'altro ci sono ancora, tipo le guide cartacee vengono ancora pubblicate e hanno ancora un grande successo. Però non sono più il punto fondante delle nostre programmazioni per i viaggi all'estero o in vacanza. Usiamo internet per queste cose ormai. Sì, lo usiamo per tutto. Mi citano che un qualche legame c'è perché Steve Jobs e Wozniak, guardando Capitan Crunch, crearono la loro Blue Box, che era un altro strumento per telefonare gratis, la Blue Box. La Blue Box è un'evoluzione del circuito di Capitan Crunch, è più dettagliato e aveva diverse frequenze. Era un generatore di frequenze praticamente. Rispetto alla prima, mi pare la prima era Red Box, poi è diventata la Blue Box. Comunque erano generatori di frequenze bitono che simulavano il collegamento telefonico. Quindi sì, immagino che Steve Jobs e Wozniak, essendo due smanettoni, abbiano preso spunto dal lavoro di Draper per costruirsi a loro volta i circuiti. Noi non li abbiamo mai costruiti qua in Italia perché avevamo la rete impulsi, quindi erano inutilizzabili. Se no sarebbero stati costruiti anche da noi. Da noi si telefonavano, c'erano altri mezzi per telefonare da noi. Che non stiamo a dire perché non li conosciamo e non li abbiamo mai usati. No, 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 per carità. Mi fanno una domanda molto tecnica. Non so se siete preparati su questo. I videogame sulle BBS, che ogni tanto passano alle mie spalle, sulle BBS c'è anche un meccanismo di videogame per giocare collegati, però come funzionava questa cosa? A quell'epoca i computer, a differenza di quello che ho citato prima, potevano eseguire un solo software, un solo programma alla volta, però avevano un modo per eseguire dei videogame esterni al software che gestiva BBS? Questa è una domanda sensata. Oppure in realtà queste evoluzioni sono successive quando già i computer che gestiva BBS erano capaci di eseguire molti programmi? Ma guarda, con la velocità che avevamo noi giocare era molto difficile e poi ci si collegava proprio lo stretto tempo necessario. Pensare di collegarsi e giocare, passare un'ora davanti al computer, voleva dire spendere un patrimonio. Comunque giochi c'erano, non dimentichiamoci che all'epoca la maggior parte dei giochi su PC erano testuali, erano adventure testuali in cui c'era una descrizione dell'argomento che si descriveva, la situazione, e tu dovevi trovare una soluzione muovendoti in una mappa virtuale e raccogliendo gli oggetti. Tutto in maniera testuale, internazzato da qualche immagine, ma però in bassa risoluzione, e questi erano i giochi dell'epoca. Ti posso assicurare che erano molto seguiti, c'era la gente che passava le notti su questi giochi per cercare di trovare la soluzione. Questo fin quando hanno cominciato a velocizzare un po' il collegamento con le BBS. Per giocare a un certo livello andava almeno un 2400 BOD, al 2006 sarebbe stato l'ideale. Si è cominciato a giocare quando poi è arrivato internet, lì si giocava veramente. C'è stato un periodo di transizione in cui c'erano delle DOOR che permettevano di interfacciarsi con altri programmi sempre di giochi di gruppo, però era un periodo di mezzo che è durato pochissimo. Diciamo nel passaggio in cui aumentava la velocità di connessione e aumentava anche la velocità dei computer dell'epoca. Ok, mi dicono che sulle BBS FidoNet giravano i multi user dungeon che erano a turni, quindi non c'era un vero parallelismo. Sì, su DOOR, se posso intromettermi, giocavano anche in particolare RPG testuali, alcuni sono stati anche abbastanza famosi, tipo Lorde. Diciamo che erano comunque, come diceva Fulvio, giochi che non richiedevano tantissima banda per poter partecipare, ma essendo testuali riuscivano ad essere contenuti nei costi, diciamo. Gli antenati dei primi MMO, prima di Warcraft online, si giocava in maniera testuale. No, tieni presente che è la stessa paragone che potrebbe essere tra un libro e un film di adesso. Nel libro tutto è demandato alla tua fantasia e lì l'adventure, il gioco era tutto demandato alla tua fantasia. Ci si davano degli spunti con la descrizione e poi tu ti immaginavi la situazione. Quindi a livello mentale era bellissimo, per quel poco che avevamo. Si usava più la fantasia, non come oggi che è tutto facile e che c'è la pappa pronta. Anche i primi bot sono nati sulle BBS, i primi chatbot nascono lì, che voi sappiate, la storia dei chatbot esisteva. Parlando di chatbot, io mi sposterei un po' più avanti nel tempo e arriverei ai primordi di internet, quando c'era l'IRC, Internet Relay Chat. Lì si utilizzavano parecchio i bot e le chat. Elia, dici sì, cos'è l'IRC? Voi date per scontato l'IRC, ma noi non abbiamo un pubblico di boomers, alcuni non hanno mai usato queste cose. Cos'è l'IRC? Internet Relay Chat, come ha detto Fulvio, in Italia il server più famoso era Azzurra. Penso che quasi tutti si siano collegati lì, a meno quelli che erano appassionati, specialmente quelli che seguivano i newsgroup, vari canali, avevano poi anche rispettivi sul server Azzurra. Molti si trovavano, anche gli appassionati di tanti cartoni, o anche di retrocompeting, si trovavano anche su questo server in cui si poteva chatare in tempo reale. E' ancora attivo adesso, sono ancora attivi adesso questi server, si chatta testualmente, quindi si entra in questi canali in tempo reale, si può parlare di quello che si vuole. Un po' i messenger di adesso di Facebook o Whatsapp. A proposito di buone idee che continuano a tornare, cambiano le tecnologie, ma l'uso che se ne fa continua a essere costante, quello che cambia è forse il paradigma della comunicazione, la cosa più evidente. Tu Elia, puoi farci un esempio dell'impatto di questo cambio di paradigma che stiamo vivendo? Beh, internet ha permesso di essere a contatto con altre persone in tutto il mondo, questo lo possiamo vedere adesso in particolare, ma lo abbiamo visto anche negli anni passati. Ha fatto quello che ha fatto il telegrafo prima, poi il telefono dopo, ha unito le persone. C'è ovviamente tantissima critica sul fatto che ci si isoli, che si rimanga da soli e così via, però va considerato che ora si può parlare e vedere anche l'altra persona che probabilmente vive nella parte opposta del mondo. Questo è come ti rende praticamente vicino a te, quindi fa sì che tu possa quasi considerarla come se fossi nello stesso posto in cui vivi tu. La connessione ha permesso di venire anche dei cluster, ad esempio quelli finanziari, una volta si faceva un investimento, questo era focalizzato su quanto era vicino fisicamente e temporalmente. Ora si può fare un investimento comodamente presso una borsa di un'altra nazione, anche passeggiando in un parco tramite l'uso di un'app. Ha creato le condizioni che ha portato a due diverse tipologie di crisi, ad esempio. Si parla tanto di crisi finanziarie, ma se come andiamo a vedere bene, la crisi degli anni 90 del secolo scorso, queste hanno avuto un impatto locale, nonostante ci fossero già le comunicazioni tramite internet, lasciatemi dire. Ma quelle successive degli anni 2000, invece, hanno avuto un impatto molto più forte, proprio grazie a quanto internet aveva reso disponibile. Quindi è stato un po' come un domino, no? Tipo la borsa, lasciatemi dire, la borsa di Londra crolla, proprio per questo, avendo comunicazione istantanea, immediata, e non mediata tramite il telefono, filtrata tramite il telefono, ma immediata, le utenze hanno iniziato a condividere le informazioni e quindi anche altre borse sono crollate, ad esempio. Quindi ha cambiato profondamente il nostro modo di vivere e anche in questi giorni lo stiamo vedendo e cambierà ancora. E' vero, è vero, non sappiamo cosa aspettarci. A proposito delle buone idee che tornano, invece, ci chiediamo, le BBS di cui parlavamo prima, sono finite? Non esistono più? Oppure adesso, nel 2020, io posso collegarmi a una BBS? No, no, le BBS sono rimaste, ce ne sono molte, logicamente cosa sfruttano? Non sfruttano più la rete commutata, o almeno sono rimaste pochissime in rete commutata, quindi pensare di chiamarle telefonicamente ce ne sono veramente poche, ce ne sono invece tantissime su internet, con vari protocolli, come Telnet, che è il più semplice per raggiungerla, quindi sono un sacco di BBS che riproducono quello che era lo standard dell'epoca, ci si può collegare gratuitamente a questo punto, perché non c'è più connessione telefonica, basta semplicemente digitare l'indirizzo, avere una connessione con Telnet e si può collegare. Se cercate su Google, BBS, ce ne sono migliaia, veramente migliaia. Anche perché oggi, come oggi, un modem in casa non sapremmo nemmeno dove collegarlo, un modem analogico, collegarlo al cavo fibra ottica viene un po' difficile, quindi ci servono altri standard oggi. Lo puoi collegare lo stesso dove colleghi la presa telefonica, il VoIP, entri in VoIP, invece che logicamente il numero di telefono è un po'... Forse ti fa anche il numero di telefono, dovrei provare, però credo che in DTMF riesci anche a digitare il numero di telefono, però devi trovare una BBS che sia su rete commutata che ti risponda. Sì, una DBS che ti risponda dagli anni 90 probabilmente. No, poi pensa al costo che devi mettere su, devi mettere su un server acceso e collegato a una serie di modem che gestiscono le connessioni, perché ogni modem gestisce una connessione su diverse seriali, su porte seriali, perché allora il modem si collegava alla porta seriale. Fantastico, come dicevo prima, era un altro mondo, era tutto più naif, più difficile. Lo rimpiangiamo, una domanda per entrambi, rimpiangiamo quell'epoca o la rimpiangiamo solo perché eravamo più giovani? No, io non rimpiango assolutamente. Mi sono divertito all'epoca, come mi diverto al giorno d'oggi, a fare altre cose. Ci sono altre cose da scoprire, internet è vastissimo, è infinito, e quindi molto più infinito di quello che erano le BBS di allora. Allora si andava per il passaparola, si cercava informazioni in giro, si cercava il più possibile, tante cose non erano vere. Un po' quello che succede oggi, però era molto più difficile recuperare le informazioni. Si leggeva molto di più. Le uniche informazioni le avevi leggendo. Sì, anche io penso che di... Non lo rimpiango sicuramente, mi sto divertendo tantissimo, sto imparando tantissimo di continuo, continuo a imparare, e il cambiamento è frutto di questo imparare. E io sono contentissimo di imparare, è frutto di questo cambiamento. Sono molto contento di questo. Ovviamente ho dei bellissimi ricordi, perché io comunque ho iniziato ad usare internet nel 98-99, quindi ero ancora un pischello, diciamo così, andavo al liceo. Ho conosciuto, ho iniziato ad appassionarmi, anche lì, a quello che erano le potenzialità dello strumento. E credo che sono bellissimi ricordi di un adolescente quelli. Ora è ovvio che si debba andare avanti, ed è giusto che si debba andare avanti, ci sono tantissime altre opportunità per poter apprendere e imparare cose nuove grazie a questi strumenti. Paolo e Sante, mi dicono che una grande fonte di informazione all'epoca erano le riviste di elettronica, che spiegavano come costruire i modem, Fulvio, ad esempio. Trovi sulle riviste di elettronica, perché elettronica e computer erano insieme allora, non c'era proprio chi faceva elettronica o faceva trasmissioni radio, oppure appena è nata un po' l'informatica digitale, si autocostruiva il primo computer. E poi c'erano un sacco di informazioni. E adesso un pochettino, non con le riviste, però si sta tornando a quello, basti vedere i Fab Lab, Tinkering e così via. Si va a, si ritorna alla manualità anche, all'auto, a Do It Yourself, che c'era una volta, sta tornando ancora di nuovo in auge, lo vediamo anche con la fabbricazione di adattatori di valvole per le maschere respiratorie e così via. Quindi c'è questo ripetersi, come abbiamo detto anche prima, di scambi di conoscenza. Sì, diciamo che allora eravamo proprio dei pionieri, nel senso che ti dovevi costruire il circuito elettronico e ogni cosa dovevi partire dal transistor, farti l'oscillatore e tutto quanto. Adesso prendi un Arduino, lo programmi e gli fai fare perché vuoi. Quindi, allora partivi proprio dalla base. Diciamo che adesso è tutto più facile, infatti mi diverto molto di più adesso. Da frequentatore di BBS, poi di News Group e di qualcos'altro, immagino sappiate tutti cos'è un flame. Vedo un commento che potrebbe innescare un flame infinito, anche a parole, perché si chiedono l'informatica nasce come costola dell'elettronica. Io soppersiederei su questa domanda, perché finisce in lite, finisce come in un talk show trash in cui le persone si insultano. Magari lo approfondiamo in una serie apposita. L'informatica senza l'elettronica sarebbe stata solo teoria. Diciamo che l'elettronica ha permesso all'informatica di dimostrare tante tesi e tante cose. Quello che ha scritto il primo programma, Ada Lovelace, nel 1860, mi sembra, 1841. Nel 1841 ha scritto il primo programma, però non esisteva ancora un computer. E quindi non c'era possibilità di vedere se questo programma funzionava, oppure potrebbe essere il parto di un pazzo. Però vedi che i computer esistevano anche senza elettronica, a vapore. Però non infiliamoci. Sulla carta esisteva. Diciamo che l'elettronica ha permesso di rendere reale certe cose che uno si immaginava. Ok, prima di andare troppo off topic, come si diceva un tempo, se c'è qualche altro commento, oppure se i nostri due ospiti hanno qualche considerazione finale. Facciamo un breve scursus allora. Siamo arrivati alle BBS. Le BBS diventano, i moderni diventano sempre più veloci. Più diventano veloci modi, a un certo punto salta fuori internet. Arriva anche qua in Europa internet, perché stiamo parlando del 93-94, che le prime... già ce l'avranno le università, ma sto parlando al grande pubblico. Arriva nel 93-94, nel 95, poi c'è video online che promette internet a tutti quanti, gratis, e quindi arriva internet per tutti. Quindi già nel 1993-94 ci si collegava. Lì le BBS diventavano sempre più rade e aumentavano i siti web. Allora ci si collegava con Mosaic, si utilizzavano le chat come IRC, e sì, c'era lo standard FTP per il trasferimento dei dati, e Gofer. Gofer era una specie di navigazione a metà tra il testuale e il grafico, che poi è morta nel giro di due o tre anni, almeno qua in Italia. Io mi ricordo ancora, è un argomento internet, mi ricordo ancora il progetto Prometeo, gestito dall'Università di Milano, e poi anche si aggiunse il Politecnico di Torino, ed era un progetto in cui si condividevano le sigle di cartoni animati, in particolare giapponesi, fino agli anni 70 e agli anni 80, che erano stati trasmessi sui tv nazionali e regionali, locali. Ed era un progetto a cui immagino molti avrebbero partecipato, anche solo come i fruitori, perché riportava in auge quelle canzoni che erano le sigle, quindi di cartoni animati che uno guardava da bambino, quindi è stato anche un momento di ricordi. Adesso non c'è più, ormai è stato disabilitato il progetto, sia per motivi legali, poi anche per il fatto che spesso e volentieri le colonne sonore si trovano su YouTube. Di nuovo esigenze di un'altra epoca, cose che oggi abbiamo difficoltà a capire perché ci costassero tempo e fatica, perché oggi è tutto facile. Premo un tasto e do la sigla del mio cartone animato preferito. Molto bene, se non c'è qualche altra considerazione che i nostri ospiti vogliono aggiungere, possiamo passare a ringraziare il pubblico, ringraziare chi ci ha dato dei contributi, degli spunti di discussione, ringraziamo tutti quelli che ci hanno guardato e tutti quelli che ci guarderanno in differita, li ringraziamo dal passato in questo caso. Grazie per l'attenzione, continuate a seguirci, avremo altre dirette con altri argomenti, spero tanto interessanti, altri ospiti coinvolgenti come quelli di stasera. Buona serata a tutti, Pulvio, saluta il tuo pubblico. C'è ancora una domanda di Adriano, qualcosa di italiano del mondo delle BBS da ricordare. Oh, allora posticipiamo i saluti, non abbiamo certo qualcosa di italiano al mondo delle BBS da ricordare. Fulvio? I nomi delle BBS? Non me le ricordo dell'epoca. Ce n'erano tante, sono passati 30 anni. Sono passati veramente, tanto tempo è passato. Me ne ricordo che ce n'era, poi dipende in quale zona dell'Italia, tieni presente che io sono di Torino, quindi mi collegavo in quelle della zona di Torino che erano due o tre. Ce n'erano parecchie a Roma, Bologna, Milano, ce n'erano tantissime e mi collegavo alle mie della zona. Tra l'altro, mi ricordo che quella che mi collegavo io era di una fabbrica di tubi che non c'entrava niente con né con l'informatica né con l'elettronica, ma il proprietario probabilmente era un appassionato e aveva messo su una BBS, pur avendo una fabbrica che faceva tutt'altro. Purtroppo... Bizzardo. Mi cita una BBS civica del comune di piccoli cantori di Milano? No, no. Probabilmente essendo una biblioteca doveva essere molto ben rifornita. Ripeto, per me una telefonata a Milano era un suicidio. Bisognava cercarle vicino a sé. Bisognava cercarle vicino a casa. Quindi collegati in remoto, ma non troppo in remoto. Oh, MC Link, citano MC Link, la BBS della famosa rivista legata alla famosa rivista di informatica MC Microcomputer. Certo, certo. Che poi è diventato un provider internet e credo esista ancora come fornitore di connettività. Ok. Con l'avvento di internet è stato tutto più facile, soprattutto per i costi, diciamo. Anche se all'inizio collegarsi costava, però generalmente erano sempre telefonate locali perché i numeri di telefono erano delle grandi città. Non possiamo in realtà non citare la neonata, tra virgolette, BBS italiana, Retro Academy, naturalmente. Beh, certo. La BBS attuale, esistente, fruibile. È di esempio per chi si vuole creare una sua BBS, perché il codice è stato reso disponibile e chiunque può modificarlo e crearsi una sua BBS. Ringraziamo gli autori che l'hanno creato e reso disponibile. Di il dove, dai, a questo punto. Direttro Academy. Elia, dimmi. Ringraziamo, chi ringraziamo per la BBS Direttro Academy? Immagino ci sia di mezzo Francesco che ci sta ascoltando, tra l'altro. Esatto. Sì, sì, sì. Francesco Splendario. Esatto. Bene, con questa nota di personale ringraziamento a un amico, torniamo a salutare il nostro pubblico presente e futuro. Grazie di tutto. Elia, prego, saluti. Buonasera a tutti e alla prossima settimana. direvo a dire, no? Esatto. Fulvio, hai qualcosa da dire al tuo pubblico? Buona serata. Sperimentate. Ok. Grazie a tutti, grazie ai nostri speaker e grazie a chi ci ha guardato. Buona serata. A presto. Ciao.